benvenuti in un nuovo gameplay su fortnite battle royale buona visione no per il momento sto facendo una partita che sono appena sceso pinnacoli ti richiamo tra un po e 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 iscriviti al nostro canale Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.